SIGLA 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 Mamma, cosa è successo? Lou è scappato. Lasciatelo! Non lo sento da dieci anni. State attenti. Lui è il nemico. Non c'entro niente con lui. Io obbedirò al partito. SIGLA Ti assicuro che quest'uomo accanto a me è tuo marito. Non voglio vederlo in casa mia. Dovete chiedergli di andarsene. Che cosa sono? Lettere. Chi le avrà scritte? Ho letto un articolo inglese che parlava di un effetto déjà vu. Mamma, questo chi è? Nessuno si occupa di lei. Ma riconosce altre persone. Perché non riconosce proprio me? Quaggiuopi città di migliore. No subito.